Non è possibile trasferire la sede del servizio sociale con una singola votazione, ma è necessaria una convenzione approvata dai consigli comunali dell'ambito. Questo è il senso delle dichiarazioni dell'ex sindaco di Castellabate, oggi consigliere di opposizione Costabile Maurano. Io ricordo l'assessore Aloia all'epoca del 2001, del 2002 e fino al 2006 i tentativi sempre di portare questo ambito nel comune di Vallo, ma senza una motivazione perché in un certo uno difende il territorio, anche perché noi siamo convinti che le istituzioni devono funzionare ovunque si trovano, o che si trovano a Vallo o a Castellabate. Fu scelto dalla provincia di Salerno Castellabate e abbiamo portato per dieci anni avanti questo discorso per le politiche sociali. Non esistevano poco le politiche sociali, avevamo portato a un certo livello l'azione amministrativa con tutti i sindaci, i primi momenti erano molto torbolete, difficili, discussioni animate, eccetera. Poi alla fine si è concordato sulla grande capacità di sintesi e di tutti i sindaci di portare avanti veramente un discorso serio sulle politiche sociali dell'ambito 7. Io adesso non capisco, ecco l'azione del sindaco Aloia che agisce in questo modo, perché noi siamo tutti, dobbiamo agire nel rispetto delle regole. Il coordinamento istituzionale nella seduta del 27 non ha agito, ha dato un indirizzo, ma non ha deliberato, perché a deliberare sono tutti i consigli comunali che devono stabilire le quote, devono stabilire la funzionalità. Noi abbiamo proposto questa sera uno schema di convenzione, così come dovrebbe essere fatta una convenzione, non come quella mandata dal Comune di Vallo. Poi non è che si può nominare qualsiasi funzionario come si è fatto, ma assolutamente, perché i funzionari innanzitutto non è previsto più, è previsto il distacco da parte degli enti pubblici, c'è l'articolo 1 del decreto legge 95 del 2012 che stabilisce delle precise regole per quanto riguarda i Comuni e l'associazione di Comuni. Tutti i sindaci devono capire come è difficile, come sarà difficile mettere insieme, oltre che la spesa, soprattutto la spesa direi, non oltre la spesa, anche altri compiti che l'ambito. Non è che dalla mattina alla sera, con una delibera del coordinamento, senza sentire i sindaci, perché sono i sindaci a deliberare, a approvare la convenzione, a esenzia dell'articolo 30 del decreto legislativo 2000, del testo unico 2000, ad approvare queste convenzioni. Io non si deve... ecco, se funzionava bene qui, perché trasferire? Lei pensa che c'è una precisa volontà politica a svuotare questo contenitore dell'ambito 7, che in realtà, lei diceva, stava andando benissimo, ha avuto i riconoscimenti di Bastolino, ha avuto i riconoscimenti di Assessori, che non erano neanche, diciamo, ecco, dello stesso partito, se vogliamo. Io non capisco la caperbietà, il modo di volere a ogni costo questo ambito lì. Sicuramente c'è qualcosa di politico, ma di vecchio politico, di un modo di far politica, degli anni che è stato sconvitto dalla gente. La politica, i servizi devono esistere e funzionare laddove funzionano. Non è pensabile che se Savallo può funzionare, se stava qui non funzionava più. Adesso noi, ecco, non condividiamo questa iniziativa. Può essere che sia stato un atto, voglio capire, un atto di forza. Non voglio pensare che si pensa che si possa fare della clientela sulle politiche sociali. Quella è una politica dei più deboli, dei più disperati. È una missione così difficile da compiere per quanto riguarda questa categoria di persone diversamente abili. Noi avevamo dato un lustro eccezionale per i servizi. Oggi, da un anno e mezzo, diciamo la verità, un po' per queste cose, un po' perché la regione, un po' per altro, questi servizi vanno rilendo o sono quasi santo finendo. E allora è una classe politica che si perde in più se fare il Presidente del Consiglio o discutere invece del programma da portare avanti per i cittadini. Quindi l'ambito Salerno 8 non esiste fino a quando i consigli comunali, tutti i consigli comunali, non approvano una convenzione. Quindi tutto quello che è stato fatto fino a oggi è nullo. È nullo, l'abbiamo detto stasera in un discorso. Ma ha visto perché c'è questa contrarietà? Ma perché in realtà forse è un caso probabilmente a livello storico. Però l'ospedale di Agropoli prima costruito e poi svuotato. Gli ambiti, diciamo l'ambito 7, prima costruito con grossi sacrifici, con grosse anche diciamo abnegazioni da parte di coloro che in qualche modo poi vi hanno preso parte, tanto a livello politico, tanto a livello diciamo poi di servizi veri e propri professionali, si tenta di svuotarlo. Cioè vi è sostanzialmente un po' superata dagli eventi storici del momento. Una politica superata, quella di voler gestire la cosa pubblica e fare politica sui deboli. Io credo che questo non è più possibile. E questo ne vedremo in seguito. Sarà sicuramente uno dei motivi per cui, altrimenti un'intesa, come fece il sindaco Sansone, con molta semplicità allora, con me, ecco si andò perfettamente. Lui a noi era il sessore. Era il sessore. Ma però in quella fase, quando col sindaco trovammo subito l'intesa perché ci confrontammo più sulle cose che dovevano essere fatte verso i deboli che sul spartimento di posti eccetera, perché non c'è niente da spartire. Vallo, secondo il suo avviso, così come sta diventando una città di servizi, quindi che dà servizi al territorio, a una città-stato perché a quanto pare tutto viene... Certo, è la mentalità di quello di voler fare una città-stato. Però i servizi devono funzionare. Io ho fatto in Consiglio Comunale l'esempio della comunità del parco. Scusate, da due anni non si riesce a nominare un presidente, non funziona l'organismo supremo del parco soltanto perché non si mettono d'accordo chi deve fare il presidente. Ma questa è una cosa che non va. Ecco, come tante altre cose, l'ospedale di Agropoli di cui si parlava prima, scusate, ma è stato speso un sacco di soldi. E noi, è stato aperto nel 2004, quando io insieme a 13 sindaci ho detto all'amministratore o lo apri o noi lo occupiamo, perché una struttura del genere non può rimanere chiusa. Noi facciamo un discorso di territorio, di funzionalità, di popolazione, là dove è la più popolazione, di turismo. Come si fa ad avere un turismo se non c'è una struttura sanitaria, se non funzionano le politiche sociali in una realtà altemente turistica? È impossibile. Quindi facciamo un discorso, ma non è che vogliamo... Noi non diciamo chiudete l'ospedale di Vallo. Se l'ospedale di Vallo non funziona, deve essere chiuso. Ma se funziona l'istituzione, poi sono gli uomini a farla funzionare, ecco, non sono le strutture a far funzionare, fanno funzionare da solo. Sono gli uomini che in quel momento... Ecco, il discorso, bisogna farlo un po' europeo, un po' globale il discorso, e dobbiamo verificare. Ecco, sembra la buona fede, quella di voler amministrare la cosa pubblica con grande passione, con grande sobrietà, con grande trasparenza, con grandi sacrifici, rinunziando a se stesso, alla sua persona, sacrificando per gli altri, come ha fatto questo povero sindaco per dieci anni, che sono andato, sono uscito, sono entrato povero e sono uscito poverissimo. Musica Musica Musica